ciao a tutti ragazzuoli fatto sta breve clip video semplicemente per farvi vedere la gente che non ha un cazzo da fare ragazzi ha creato addirittura per venirmi a rompere il cazzo un account fake con la mia stessa immagine e mi ha anche chiesto l'amicizia ieri alle 19 53 su facci in merda niente se voi siete contenti così ragazzi per me non è un problema non c'ho problemi se vi divertite a me ve le carcazzo questo comunque ragazzi è il profilo testo faccia di merda è completamente diverso dal mio non so se è un fan non so che cazzo può essere però voglio di informazioni personali lo vedete game vada vim vada pam nickname col cazzo perché quello non è il nickname mio italiano inglese stati uniti spagna spagnolo va bene ragazzi comunque lo sapete non sono io questo account qui quindi mi raccomando fate bene attenzione a chi chiede di amicizia il mio id lo trovate scritto su youtube è diverso da questo quindi caro weather o caro follower non lo so se sei un follower un header comunque buona vita e fatte meno pippe mentali perché in servo ciao belli